L'organizzazione procede, la data dovrebbe essere il 4 luglio, stiamo cercando di lavorare insieme al Calcio Napoli per farne veramente un evento straordinario, sia di cittadinanza oraria, di sport, di cultura, di San Paolo, in città, si lavora per farne di quel giorno una grande festa nel ricordo di quello che fu il primo scudetto di pro anni fa, il mangio dell'86. Ecco, faremo di struttura, il San Paolo, una cosa che sarà fatto nei prossimi mesi e poi questa cittadina dello sport che l'avete sapendo di realizzare a Bagnoli, si è accortata in più? È un'idea interessante, è un'idea che si può coltivare, la cittadina dello sport a Bagnoli mi viene d'accordo, per quanto riguarda il San Paolo noi manterremo i nostri impegni, abbiamo lavorato su spogliatoi e tribuna stampa, adesso si lavora sui bagni, sui seggiorini e sull'altro, il nostro come se ne so se ne so se ne so, diciamo che una cosa la facciamo e la faremo, non siamo ovviamente in grado di avere poteri taumaturgici da un punto di vista materiale ed economico, ma con gli impegni che ci siamo presi manterremo, se poi a questi impegni si aggiunge anche un impegno della società sul piano economico finanziario si può andare tutto più rapido, questo non vi vede l'altro.